ecco l'occorrente ci servono dei barattoli questi qua proprio per per fare la candela all'interno e poi invece questo qua lo uso per sciogliere proprio la cira lo metto a bagnomaria poi ci servono le essenze le fragranze gli aromi quello che volete gli stoppini e la cera di soia e poi io uso per per colorare i pastelli a cera che i miei figli distruggono partiamo con il bagnomaria allora mettiamo una pentolina con dell'acqua e ci immergiamo il barattolo oppure un altro pentolino quello che volete poi mettiamo lo riempiamo di cera e io man mano che si scioglie aggiungo altra cera perché ovviamente la cera sciogliendosi diminuisce di volume e poi metto i pastelli a cera per dare colore perché io voglio fare un verde tiffany quindi ho aggiunto l'azzurro e il verde verde fluo poi preparo gli stoppini mentre si scioglie la cera e io ho riutilizzato le basi degli stoppini di altre candele che ho terminato e è stato un poco difficoltoso togliere lo spago cioè lo soppino che già ci stava però non è proprio così difficile poi una volta tolto prendo lo spago e vado a tagliare la misura che mi serve e lo taglio leggermente più grande perché dopo lo devo mantenere dritto per non farlo andare nella cera quindi lo taglio un paio di centimetri più alto del barattolo e poi lo immergo nella cera perché per farlo cerare perché sennò dopo non brucia perché essendo cotone il cotone non fa la fiamma quindi si si fa si passa nella cera ecco muovete un poco in modo che si bagna bene poi dopo lo prendo e lo stendo sul potete stenderlo su una carta da forno oppure io lo stendo sul marmo e cerco di mantenerlo ben dritto per fare uno stoppino bello dritto ecco poi una volta che si è raffreddato lo mettiamo dentro al non so come si chiama questo coso comunque lo metto dentro al registro pino non so sinceramente come si chiama e poi lo vado vado a immergere nella cera e lo poggio nel barattolo per farlo mantenere firmo ecco poi metto la molletta per farlo mantenere dritto e poi ci aggiungo l'olio essenziale in questo caso aggiunto come potete vedere non è venuto proprio verde tiffany però poi man mano io l'ho fatta di tre tonalità dal video sembra un po' più blu di quello che in realtà è perché poi si doveva anche raffreddare raffreddandosi indurendosi cambia un po' di colore ecco vado ora aggiungo altra cera dentro al barattolino alla brocca scusatemi e poi la faccio sciogliere e faccio così per tutte tutti gli strati di colore diciamo ora non aggiungo più colore ecco aggiunto altra fragranza vedete come già ha cambiato colore anche se dal video devo dire che sembra più scuro della realtà poi dopo vi faccio vedere la foto perché è un po' diverso ecco ora aggiungiamo altra cera e facciamo sempre sciogliere ecco questa è la metà della candela ora aggiungo l'ultima cera che ho sciolto e lo faccio raffreddare ecco ora aggiungo l'ultima cera ecco ecco ora lo facciamo raffreddare bene bene ed ecco il risultato come potete vedere non è blu come sembra all'inizio dall'immagine sembra molto blu abbiamo tagliato lo stoppino in eccesso ecco la nostra candela accendiamo devo dire che è molto molto profumata queste sono altre candele che ho fatto sempre con la cera di soi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti